Carlo VI di Francia, detto il beneamato o anche il folle francese, è stato re di Francia dal 1380 al 1422. Figlio di re Carlo V e Giovanna di Borbone, il giovane Carlo nacque a Parigi il 3 dicembre 1368, due anni dopo la morte del fratello maggiore e primo erede al trono, Giovanni. Carlo fu educato da un gruppo di studiosi e letterati, che lo resero un uomo colto e raffinato. Carlo salì al trono all'età di 12 anni, sotto la tutela degli zii, i duchi di Borgogna e di Berii. I primi anni del suo regno furono relativamente pacifici, ma nel 1392 Carlo iniziò a manifestare i primi sintomi di una grave malattia mentale. I sintomi della malattia di Carlo erano molteplici e mutevoli. A volte era violento e aggressivo, altre volte era apatico e depresso. In alcuni casi, credeva di essere Dio o di essere perseguitato da nemici immaginari. La malattia di Carlo ebbe un impatto devastante sul regno di Francia. Il re era incapace di governare, e il potere fu conteso tra le fazioni nobiliari. Questo periodo di caos e divisione è noto come la Guerra dei Cent'anni. Nel 1422, Carlo morì all'età di 53 anni. Il suo successore fu il figlio, Carlo VII, che riuscì a riunificare il regno e a riconquistare il territorio perduto durante la guerra con l'Inghilterra. Il regno di Carlo VI I primi anni del regno di Carlo VI furono relativamente pacifici. Il re si interessò all'arte, alla letteratura e alla musica, e il suo regno fu un periodo di grande prosperità culturale. Nel 1389, Carlo sposò Isabella di Baviera, dalla quale ebbe sei figli, tra cui Carlo VII, il futuro re di Francia. Tuttavia, nel 1392, Carlo iniziò a manifestare i primi sintomi di una grave malattia mentale. La malattia peggiorò nel corso degli anni, e Carlo fu presto incapace di governare. La Guerra dei Cent'anni La malattia di Carlo ebbe un impatto devastante sul regno di Francia. Il re era incapace di governare, e il potere fu conteso tra le fazioni nobiliari. Questo periodo di caos e divisione è noto come la Guerra dei Cent'anni. La guerra iniziò nel 1337, quando Edoardo III d'Inghilterra rivendicò il trono di Francia. La guerra durò per oltre un secolo, e fu caratterizzata da una serie di sconfitte e vittorie per entrambe le parti. Durante la guerra, la Francia fu divisa in due fazioni, i borgognoni, che erano alleati dell'Inghilterra, e i francesi, che erano alleati del regno di Francia. La malattia di Carlo rese la Francia ancora più vulnerabile all'invasione inglese. Nel 1415, Enrico V d'Inghilterra sconfisse i francesi nella battaglia di Azincourt, e conquistò il nord della Francia. La morte di Carlo VI Carlo VI morì il 21 ottobre 1422 all'età di 53 anni. Il suo successore fu il figlio, Carlo VII, che riuscì a riunificare il regno e a riconquistare il territorio perduto durante la guerra con l'Inghilterra. Conseguenze La malattia di Carlo VI ebbe un impatto profondo sulla storia della Francia. La guerra dei Cent'anni durò per oltre un secolo, e la Francia fu devastata da anni di combattimenti. La malattia di Carlo contribuì anche alla divisione del regno di Francia in due fazioni, che si combatterono a vicenda per il potere. Questa divisione fu un ostacolo alla riunificazione del regno, e contribuì alla sconfitta della Francia nella guerra dei Cent'anni. La figura di Carlo VI è ancora oggi controversa. Alcuni storici lo considerano un re debole e incompetente, che fu responsabile della caduta della Francia nella guerra dei Cent'anni. Altri storici, invece, lo considerano un uomo colto e raffinato, che fu vittima di una malattia mentale. Grazie. 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 Grazie.